Ciao a tutti, mi chiamo Valentina Sappia, ho 22 anni e sono una studentessa dell'Università degli Studi di Udine del Corso di Relazioni Pubbliche. In questi ultimi due mesi ho fatto il tirocinio per la CREA e ho seguito diverse attività, come ad esempio l'ARU, Nature in Foto, Bortoletti e in questo ultimo periodo mi sono anche occupata di aiutare Federica nella realizzazione del nuovo sito di CREA che sarà pubblicato a breve. Ho scoperto questa azienda sul sito della mia università nell'apposita sezione relativa ai tirocini e da subito, dal primo colloquio che ho fatto, la cosa che ho notato è stata la gentilezza di Federica, Federica ed Elena e un'altra cosa che mi ha colpito molto è stato il modo di approcciarsi al lavoro perché ovviamente venendo dall'università sono abituata più a stare sui libri piuttosto che ad applicare la teoria e quindi è stata una buona palestra per esercitare quello che comunque ho studiato e fra dieci anni spero di poter lavorare presso un'azienda o un'agenzia di comunicazione, magari anche questa, chi lo sa, e insomma spero di essere realizzata a livello professionale nell'ambito in cui ho studiato.